I genitori degli allunni dell'Istituto Comprensivo dei Cosmi di Cassel Termini hanno scritto una lettera di lamentela ai dirigenti della scuola per lamentare gravi carenze igienico-sanitarie e la mancanza di una direzione adeguata che possa garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. Stamani ci siamo recati presso la scuola per verificare le condizioni reali in cui la stessa versa. Sia il dirigente amministrativo che il vicepreside ci hanno dichiarato che la situazione attuale in cui si trova l'Istituto è invece di assoluta normalità. Vi sono state della mentele qua dei genitori di parte degli allunni in cui denunciavano una carenza di problemi igienico-sanitari. Ciò non corrisponde davvero. Ecco perché io mi sono proposto in prima persona perché in questo momento la dirigente scolastica è gravamente infortunata e quindi non è presente fisicamente. Posso assicurare, per quanti mi conoscono i genitori e anche degli altri pressi, che qualsiasi problema la mia porta è stata sempre aperta alla soluzione di qualsiasi problema che riguardavano la polizia. Addirittura, assieme al professore Baldo, che è il vicario, abbiamo attenzionato tutti i giorni il locale della scuola media che è pulitissima, quindi è strumentale e non risponde affatto al vero. Hanno scritto anche nella lettera che c'era una irreperibilità dirigenziale, ciò non corrisponde e quindi è un fatto grave che si può prestare anche a denunce per diffamazione perché la dirigente scolastica di Avella è in questo momento gravamente infortunata e quindi io mi sono attenzionato qua tutti i giorni per la polizia. Noi abbiamo due, addirittura ho messo un personale della CIC in più per appunto dare un appoggio ai nostri collaboratori scolastici nella polizia del locale. Questa è quanto, insomma, confutazione di quanto loro dichiarano che è assolutamente non rispondente al vero. La scuola ha attenzionato sempre i problemi che eventualmente vanno emergendo giorno dopo giorno, momento dopo momento ed in questo caso ha evidenziato un malfunzionamento dei servizi igienici, lo ha segnalato all'amministrazione comunale che tempestivamente ha provveduto a risolvere il problema. Ed in questo momento, diciamo, la situazione è abbastanza tranquilla, i ragazzi, gli alunni e tutti noi possiamo lavorare come è giusto che sia.